Re Petronio, capitano della Palla a Nuoto Trieste, l'anticipo della terza giornata di Serie 1 termina con un bel pareggio tra Circolo Nautico Posillipo e Palla a Nuoto Trieste. Che match è stato questo della Scandone? Credo che per il pubblico sia stato un match divertente. Per noi in acqua è stata molto dura, è stata né più né meno di quello che ci aspettavamo. Una partita dura, una partita equilibrata, che nessuna delle due squadre è riuscita a portare a casa il bottino pieno, ma un punto qua a Napoli è un buon punto. Trieste si è rinnovata, nuovo allenatore, nuovi giocatori, gioco da assemblare, da amalgamare. A che punto siamo? Credo che siamo a un buon punto. Noi abbiamo la possibilità di giocare poco al di fuori del campionato, di allenarci con pochissime squadre, anzi con una sola. Noi cresceremo strada facendo. Abbiamo bisogno di giocare per provare le nostre cose. Credo che la vera Trieste uscirà alla distanza. Prossima partita, la Bianchi arriva alla Roma-Visnova. Che match sarà secondo te? Quest'anno credo che tutti i match saranno difficili e complicati, perché tutte le squadre si sono rinforzate molto. Quindi mi aspetto una squadra bella fastidiosa, però in casa noi non possiamo permetterci di perdere punti per gli obiettivi che noi abbiamo. Grazie. Grazie a lei.